Tutto pronto per la nuova stagione remiera. Domattina, nello specchio acqueo di passeggiata Morin, si svolgerà la prima gara organizzata dalla borgata del Fossa Mastra. Fossa Mastra che torna dopo circa 20 anni a organizzare la propria prepalio, anche se costretta a farlo non nelle acque di casa propria. Il primo dei nove appuntamenti previsti che ci condurranno alla 99esima edizione del Palio del Golfo in programma per domenica 4 agosto è quindi quello previsto per domani. Tra le novità di quest'anno il numero di gare organizzate che scende dal 12 a 9 con una sosta ogni due domeniche di regata. Domani mattina i primi a scendere in acqua alle 10 saranno gli junior con 8 equipaggi presenti, 9 invece gli armi femminili, l'unica gara quella delle donne che si svolgerà in due batterie in quanto il campo di gara è stato allestito per massimo 8 corsie a causa dello spazio ridotto. Partenza quindi per gli armi femminili alle 10.30 e alle 11.00. Solo 8 gli equipaggi iscritti invece alla gara senior il cui sparo è previsto per le 11.45. Con la gara di domani si comincia a scrivere una nuova pagina di storia con Fezzano e Le Grazie che proveranno a difendere i titoli conquistati nel 2023. E dopo la gara di Fossamastra ci sarà già una sosta, il successivo appuntamento con le prepalio è infatti previsto per domenica 19 maggio per la gara organizzata dalla borgata di Porto Venere.